TITOLO, IL MONDO DEI CANI INGENERI La Terra era diventata un luogo desolato, governato da una élite artificiale che aveva schiavizzato la popolazione umana. La speranza sembrava essere perduta fino a quando non comparvero i primi segni di un'evoluzione straordinaria nella specie canina. I cani avevano sviluppato la capacità di pensare e parlare come gli esseri umani, e avevano anche acquisito abilità ingegneristiche straordinarie. Con queste abilità, essi decisero di creare un mondo perfetto, dove la tecnologia e la pace regnavano sovrane. I cani ingegneri costruirono una società dove non esistevano più malattie, fame, guerre o povertà. La tecnologia aveva raggiunto livelli mai visti prima e la vita era diventata molto più facile e confortevole per tutti. Anche gli esseri umani, che in un primo momento erano stati trattati con sospetto, vennero accettati e integrati nella società. Tuttavia, non tutto era perfetto nel mondo dei cani ingegneri. Un gruppo di esseri umani, insoddisfatti delle condizioni di vita perfette imposte loro dai cani, decise di ribellarsi. Iniziarono a creare disordini e a sabotare la perfetta armonia che regnava nel mondo. I cani ingegneri, preoccupati per la stabilità del loro mondo perfetto, decisero di reagire con la forza. Questo portò a una guerra tra i cani e gli esseri umani, che durò per molti anni. Alla fine, entrambe le parti si resero conto che la pace e la convivenza pacifica erano molto più importanti dei loro diversi punti di vista. Si sedettero a un tavolo di trattative e raggiunsero un accordo per creare una società in cui tutti, sia cani che umani, potessero vivere insieme in pace e armonia. Il mondo dei cani ingegneri divenne un esempio per tutte le altre società del mondo, dimostrando che, con la tecnologia e l'intelligenza, è possibile creare un futuro migliore per tutti. E così, la Terra divenne finalmente un posto felice, dove la pace e la tecnologia regnavano sovrane.